Sopra il luogo del presidente della regione toscana Enrico Rossi sui cantieri aperti per la ricostruzione della lunigiana devastata dalle alluvioni. Il piano di ricostruzione regionale ammonta 105 milioni di euro, 85 dei quali destinati a 50 interventi finanziati. Sono 41 quelli già completati. Prima tappa del tour del governatore, il ponte sul Magra di Stadano, costruito con 8 milioni e mezzo di euro al posto di quello crollato nell'alluvione del 2011 e che oggi con i suoi 139 metri è il più lungo ponte sospeso d'Italia. In estate si concluderanno anche i lavori per il ponte sul Mangiola a Mulazzo, costato 6 milioni di euro, e quello sul Teglia a Castagnetoli, finanziato con 3 milioni di euro. In tutto per la ricostruzione dei ponti sono stati stanziati 18 milioni. Io penso che possono diventare anche un simbolo della rinascita di queste zone. Quindi non sono soltanto belli, cosa che oggi non guasta, ma sono anche un simbolo di riunificazione, di solidità, di sicurezza. Rossi ha visitato poi il primo lotto delle scuole di Aulla, costato 9 milioni e 300 mila euro e realizzato nell'area abbandonata delle ferrovie. A questo lotto, che comprende il nido, la scuola dell'infanzia, le elementari e la mensa, se ne aggiungerà un secondo, quello delle scuole medie. I lavori in questo caso partiranno quando il Comune provvederà alla consegna delle aree bonificate e dureranno 5 mesi. A 20 milioni in tutto ammonta lo stanziamento per le scuole, mentre 5 sono quelli stanziati per gli alloggi di edilizia popolare ad Aulla. Abbiamo dovuto fare la progettazione, fare le bonifiche, fare gli appalti, e poi la costruzione è stata più veloce anche di quanto pensassimo. Questi sono i tempi per le opere pubbliche. La Toscana ce la fa, l'ha realizzata e ci sono anche buoni esempi. Questo è un buon esempio. Il tour del Presidente ha poi toccato anche il torrente Carrione per un sopralluogo all'argine crollato nell'alluvione del 5 novembre 2014. In Lunigiana, alla sicurezza degli argini del Magra, sono destinati altri 10 milioni del piano di ricostruzione regionale.